Ieri ho fatto il bagno al mare di notte e non mi ricordo più quando era l'ultima volta che l'avevo fatto, è un'esperienza bellissima, quando ero più giovane lo facevo molto più spesso, adesso è un po' più difficile trovare persone con cui condividere l'avventura. In questi giorni è in visita la mia amica da Berlino, ve ne ho già parlato diverse volte, Mischaela, non ci vedevamo da più di 20 anni e questi giorni che stiamo trascorrendo insieme sono fantastici anche perché ho finalmente la possibilità di dire ti ricordi Mischaela e magari cose che lei aveva dimenticato e lei ricorda a me cose che abbiamo fatto insieme alle quali io non pensavo più. Ieri ho portato Mischaela a fare uno dei percorsi che io preferisco e che condivido sempre con i miei ospiti soprattutto quando sono ospiti che vengono da fuori dall'Italia e cioè salire a piedi sulla sella del diavolo. Se avete mai visto foto di Cagliari la sella del diavolo è quella che domina la spiaggia del Poetto, è una è una montagna che ha la forma di una sella. C'è un percorso che si può fare a piedi per salire fino in cima alla sella e da lì si vede non solo la città, si vede tutta la spiaggia, si vedono chilometri che è un punto altissimo da cui si vede veramente un panorama mozzafiato e in cima alla sella del diavolo c'è una specie di rifugio con dei tavoli fuori e delle panche e quello che io faccio con i miei amici sempre quando salgo lì facciamo programmiamo l'ascesa alla sella del diavolo così da arrivare su al tramonto e ci godiamo il tramonto da sopra la sella, ci portiamo dietro gli zaini con roba da bere e roba da mangiare abbiamo cenato lì abbiamo fatto un bel aperitivo con con birra e con tante cose buone che avevamo comprato e preparato durante il giorno per l'occasione. Poi di nuovo tutto negli zaini e si scende giù e ormai è buio infatti avevamo anche le luci e una volta arrivati alla fine di questa montagnola c'è una bella spiaggetta e lì era buio, era notte e con Michelle abbiamo fatto un bagno pazzesco bellissimo l'acqua era super trasparente caldissima bellissimo siamo state lì a bagno scherzando giocando facendoci fare le fotografie dalle altre persone che ci accompagnavano che non sono volute entrare poi siamo tornati a casa stanchissime stamattina si è dormito fino a tardi infatti stamattina niente sveglia alle 6 per andare a correre e camminare comunque ve lo consiglio se avete la possibilità soprattutto se non l'avete mai fatto fatevi un bel bagno al mare di notte perché è veramente un'esperienza indimenticabile ve lo consiglio fortissimamente